Il cluster Smart Communities a SMAU Torino ha presentato la sua piattaforma nazionale che raccoglie le progettualità delle imprese, le soluzioni delle imprese sulle tematiche di Smart City e Smart Communities, quindi prototipi dimostratori ma anche prodotti e servizi a beneficio delle pubbliche amministrazioni per la risoluzione dei problemi sociali nell'ambito Smart City e Smart Communities. Le tematiche variano dall'energia, la mobilità, l'istituzione della formazione, la sicurezza e il monitoraggio del territorio ma anche salute, i government e i beni culturali e i turismi. La piattaforma è una piattaforma online disponibile per tutte le imprese italiane che potranno caricare e da un lato promuovere e dall'altro valorizzare quelli che sono stati gli investimenti in ricerca e sviluppo e trovare all'interno della piattaforma un luogo di incontro con pubbliche amministrazioni interessate. Tramite la piattaforma si svilupperà poi un'azione di accompagnamento negoziale invece garantita dal cluster che accompagnerà i due attori, quindi le aziende e gli organismi di ricerca e le pubbliche amministrazioni dell'altro a sviluppare progetti piuttosto che a portare sul mercato nuovi prodotti e servizi per le città. La piattaforma è in via di sviluppo e sarà definitivamente aperta al pubblico al prossimo SBAO a Bologna nei primi di giugno. Oggi inizia la campagna di adesione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che sul sito smartcomutistech.it possono andare a caricare le loro idee di soluzioni per essere contattate poi nel corso del mese di maggio per un approfondimento e per la stesura della scheda definitiva da pubblicare sulla piattaforma.